Continuiamo la nostra diretta, ritorniamo in onda e salutiamo ovviamente chi ci sta guardando, chi ci sta ascoltando, chi ci sta magari anche scrivendo, dopo andremo a raccogliere un po' i vostri commenti. Siamo in diretta oggi in una versione un po' straordinaria in effetti perché solitamente non siamo in onda il sabato in questa fascia oraria, ma oggi sì perché siamo a Genova per questa festa, questa due giorni di festa che continua oggi fino alle 18.30 qua in Piazza Settembrini di fronte alla Chiesa Valdese di Genova San Pierdarena e domani con il culto, culto che si celebrerà alle 10.30 nel Tempio Valdese di Via Sarotti e che sarà trasmesso in diretta su RBE. Ci spostiamo dalle valli, per una volta andiamo fuori dalla nostra zona abituale e saremo invece in diretta da Genova. Allora tra i tanti temi di cui la Chiesa Valdese in questi 850 anni di storia si è interrogata, abbiamo dovuto scegliere, ovviamente ce ne sarebbero moltissimi, ma ce ne sono due in particolare che volevamo sottolineare. Uno è, abbiamo parlato prima del sacerdozio universale, quindi le donne pastore, ma il tema delle relazioni tra uomo e donna, delle unioni civili, delle transizioni di genere, tutto il comparto, insomma che riguarda l'accoglienza anche delle coppie omoaffettive, è un bel pezzo di riflessione che la Chiesa si è portata avanti per decenni. Il pastore Gregorio Plesca anche con noi, magari ci sa illustrare un po' in sintesi quello che è stata un po' la riflessione. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Dunque noi possiamo dire innanzitutto che nel mondo protestante l'affettività e anche la sessualità non è affatto un tabù. Una delle cose che diciamo tutti, tra virgolette, sanno per esempio è che i pastori si possono sposare. Questo tipo di immagine ci fa capire che il modello di riferimento anche ideale del mondo protestante rispetto all'affettività e tutto quello che ne consegue non è il celibato, non è la virginità, ma è una vita sessuale serena. Ciò premesso e tenendo presente che naturalmente i valori e i modelli anche di famiglia nel corso degli anni, nel corso dei secoli cambiano per cui la famiglia dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, dei nostri avi probabilmente era diversa da quella che conosciamo noi. Semplicemente il fatto che lamentiamo tutti nel nostro paese e in Europa che ci siano pochi figli, famiglie nucleari ci indica che rispetto a cent'anni fa, centocinquanta anni fa, il modo di concepire la famiglia e le relazioni è cambiato. Un tema che è stato sinceramente non semplice da affrontare, però che è stato affrontato a mio parere in maniera sana è il tema delle coppie omoaffettive, diciamo delle coppie fatte, composte da un uomo, un uomo, una donna e una donna. È un tema difficile da affrontare, sicuramente scabroso e noi ci rendiamo conto che leggendo la scrittura ci sono alcuni brani, a dire la verità, pochi e molto circoscritti, che sono estremamente negativi rispetto all'omosessualità. Questo indubbiamente è un problema. D'altra parte però si può sottolineare un aspetto. Nel nostro modo di concepire le relazioni e nostro, intendo, della nostra cultura, cioè non della nostra chiesa ma del mondo in cui tutti e tutte, volente e volente, siamo inseriti nel mondo dell'Italia del XXII secolo ciò che conta in realtà è la relazione affettiva, cioè noi non concepiamo più la relazione, neppure la relazione eterosessuale come una relazione in cui una delle parti prevale, non lo so, il classico matrimonio organizzato dai genitori per motivi strategici di alleanza patrimoniale. Presente anche quello nella Bibbia. Presente anche quello, peraltro, nella Bibbia. Poi nella Bibbia ci potrebbe dire che ci sono anche modelli di relazione che noi troveremo piuttosto strani, per esempio il concubilato, per esempio la poligamia, per esempio il fatto che il patriarca ha un paio di mogli, sorelle e determinate schiave, cioè insomma è un tipo di società che è una società di 4.000 anni fa, 5.000 anni fa. Ma ritornando a noi e lasciando che i pompieri passino, sperando che non ci sia niente di grave, ritornando a noi, allora quello che a noi interessa è riconoscere che ci sono tanti modi diversi di volersi bene, mi rendo conto che questa messa così la frase è un po' patetica, però in realtà è questo il problema, cioè l'amore a molti volti e anche l'amore che va al di là di quello fraterno tra genitori e figli, tra amici e amiche eccetera. E tutti questi modi possono essere riconosciuti, anzi a me verrebbe da dire che uno dei compiti della Chiesa è proprio quella di aiutare le persone, anzi scusate, accompagnare le persone nella loro vita affettiva, cioè diciamo noi non abbiamo una visione di una Chiesa che indica e giudica, che dà la ricetta per vivere e magari punisce o fa sentire in colpa chi per mille motivi non riesce o non vuole vivere quello schema predefinito. Noi abbiamo l'idea di una Chiesa che accompagna, accompagna le persone nella loro vita, che talvolta è difficile, talvolta è facile e comunque il nostro compito a mio parere è quello di aiutare le persone a vivere meglio, non a vivere peggio. Certo, questa è una delle grandi differenze, lo sappiamo, che c'è con la Chiesa Cattolica ad esempio, questa differenza di vedute a livello generale appunto delle sfere religiose. Il pastore Gionatan Terino in questo caso a lui chiediamo quali sono un po' questi punti in cui ancora troviamo delle differenze, ancora ci sono differenze tra la Chiesa Valdese e la Chiesa Cattolico-Romana oppure altre Chiese? Sì, vi ringrazio per questa possibilità di parlare in pubblico e anche alla radio VEQUI. Io penso che sia importante prima di parlare di differenze, perché nella società ci sono sempre differenze di natura sociale, etica, religiosa, parlare di criteri, cioè qual è il criterio della differenza e poi differenza rispetto a chi, a quale movimento, a quale Chiesa. Dobbiamo premettere allora che il cristianesimo è uno, anche se vissuto in maniere diverse nella storia ma anche nella società attuale. Ci sono diversi modi di vivere il cristianesimo, non tutti questi modi sono condivisibili da noi come protestanti ma c'è un criterio per capire le differenze sia nella nostra pratica, la prassi, sia soprattutto in ciò che noi professiamo. Beh, dobbiamo dire innanzitutto che il credo è uno, il credo che unisce tutti i cristiani è un credo trinitario che risale all'antichissima tradizione delle Chiese in Occidente e in Oriente, questo molto prima della Riforma e anche prima degli 850 anni della storia valdese, tuttavia la tradizione antichissima del credo è fondata su un'autorità primaria e cioè l'autorità delle sacre scritture, noi le chiamiamo così, esse rappresentano l'unità di misura della Chiesa o il canone attraverso cui poter costruire, misurare la fede. Ora, la grande discussione tra la Chiesa ufficiale, dominante del nostro Paese, cioè la Chiesa cattolico-romana e le Chiese nate prima della Riforma e poi alla Riforma del 1500, di cui abbiamo parlato perché la Chiesa valdese è una Chiesa anche riformata e le differenze risalgono al modo di intendere l'autorità. Quale autorità può determinare le convinzioni delle Chiese? Come si orientano le Chiese nella storia? Quali sono i criteri per professare la fede? La scrittura è la fonte primaria del credo e le Chiese hanno trovato un consenso, questo è il senso del dogma, un consenso attorno, grazie alle scritture, attorno al credo trinitario. Ma da questo discende anche un altro imperativo, che è quello di vivere la fede e quindi avere anche un criterio per vivere la fede davanti a Dio. Allora, la Chiesa siamo noi, la Chiesa è il popolo di Dio in cammino, questo lo dice anche il Vaticano II, ma la Chiesa non necessita di un criterio superiore alle stesse scritture, che sono il canone. Non abbiamo come protestanti, come valdesi, un magistero o un corpo docente che orienti le Chiese, abbiamo invece dottori e pastori che lavorano insieme anche in senso ecumenico nelle Chiese ed elaborano insieme il pensiero cristiano. Questo era infatti l'intento anche del concilio di Nicea, che tra l'altro era stato convocato dall'imperatore e non da un papa. Cioè le Chiese si devono incontrare per dibattere e discutere questioni di fede. Che cosa crediamo? Crediamo le stesse cose che credono i cristiani cattolico-romani e le Chiese ortodosse, ma abbiamo un modo diverso di intendere la fede, di intendere la nostra presenza nel mondo. Innanzitutto perché crediamo che l'autorità non risieda, come dicevo, in un corpo docente, ma nella Chiesa tutta che riconosce le scritture come autorità e come funzione di guida, di orientamento. Le scritture però non possono essere intese come un manuale o come un codice, ma piuttosto sono uno strumento orientativo, sono l'unità di misura per misurare il nostro cammino di fede. E quali sono le differenze principali che possiamo cogliere? Innanzitutto la centralità di Gesù Cristo è tale da impedire le devozioni e i culti resi alle creature, alla Vergine Maria, che pure viene onorata, ai Santi. La centralità di Gesù Cristo indica che la Chiesa non può mediare l'opera salvifica di Cristo attraverso i sacramenti o attraverso il Magistero stesso, ma il popolo credente deve essere messo in relazione diretta con Gesù Cristo, nostro contemporaneo. E ne segue anche che l'etica, la vita personale, non sono definite dal Magistero, ma dalla coscienza individuale, che si rapporta alle Sacre Scritture e al dibattito assembleare. Non so se... Sì, sono discorsi difficili da condensare, Jonathan. Mi rendo conto che è complicato dover ridurre a pochi minuti dei concetti che peraltro sono stati elaborati in secoli di storia. Però insomma, grazie per questo contributo che ci hai dato. Ovviamente poi le chiese, io lo ribadisco, sono a disposizione. Se qualcuno avesse qualche curiosità, qualche domanda, qualche desiderio, anche solo di confronto, di chiacchiera, insomma, ben venga. Contatti il concistoro, contatti il Consiglio di Chiesa, il pastore, e ci sarà l'occasione per poter avere un momento appunto di incontro e di confronto. Giusto? Certo. Grazie al pastore Jonathan Terino, grazie al pastore Gregorio Plescan per essere stati con noi. Grazie. Grazie. Arrivederci.